bello ma così è inutilizzabile in cinese se solo ci fosse un modo per avere almeno la lingua inglese ciao e bentornati dal vostro Loretech qualche giorno fa avete visto l'unboxing e l'installazione del mio nuovo Mi Band 8 ma oggi è arrivato il momento di trovare una soluzione per impostare almeno la lingua inglese adesso direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito come potete vedere è impostato di default con la lingua cinese per cui è veramente impossibile cercare di capire come andarlo a utilizzare per questa guida utilizzeremo il mio iPad Air 2022 potete utilizzare anche il vostro smartphone o un altro tablet andate sulle impostazioni del vostro dispositivo andate su lingua metteremo inglese usa inglese impiegherà qualche secondo la lingua verrà impostata in inglese apriamo la nostra applicazione di My Fitness gli diamo uno swipe lo andiamo a sincronizzare con l'orologio e come vedete in pochi secondi è stata impostata la lingua inglese così riusciamo tranquillamente a poterlo utilizzare chiaramente il vostro dispositivo rimarrà in lingua inglese beh ragazzi non è sicuramente la soluzione definitiva ma riusciamo comunque a utilizzare il nostro Mi Band chiaramente il dispositivo deve rimanere impostato su lingua inglese in alternativa potete reimpostare la lingua italiana ma non andare a sincronizzare l'orologio così da tenerlo in inglese e il vostro dispositivo in italiano a questo punto voglio sapere la vostra che cosa ne pensate di Mi Band 8 fatemelo sapere qui sotto nei commenti noi intanto attendiamo che venga rilasciata la versione europea a questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da Tutorial, Mi Band 8, Loretec era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao